Il gran finale di Terra Amara è sempre più vicino. Il programma che ha tenuto attaccati allo schermo milioni di persone sta per raggiungere la sua conclusione all'inizio del 2024. Sei pronta a scoprire il gran finale, che ti lascerà completamente senza parole? Bene allora, iniziamo. Alla conclusione di questa straordinaria storia, troviamo Adnan, un personaggio che abbiamo visto crescere e maturare nel corso delle stagioni, ormai divenuto adulto. Adnan si trova di fronte a una svolta significativa, sia dal punto di vista professionale che personale, la quale plasmerà il suo futuro. La decisione di trasporre in pellicola la complessa e ricca narrazione della storia della sua famiglia è un progetto ambizioso e sentito, una sorta di test cinematografico, volto a rendere onore e perpetuare il retaggio familiare. Il fulcro di questo film è la figura di sua madre Zuleya, che Adnan intende ritrarre nella sua maestosità di grande signora di Cucurova. La scelta di farla protagonista non è casuale. Zuleya è il prototipo ideale di matriarca, forte e resiliente, una donna che ha superato innumerevoli sfide e rappresenta il legame che unisce le varie generazioni della famiglia. Lei è il simbolo della tenacia e del coraggio, valori che Adnan desidera evidenziare e celebrare attraverso la sua arte. Nel tessere questo racconto, Adnan si imbatte in una rivelazione storica che aggiunge uno strato di profondità al già ricco mosaico familiare. La bisnonna, custode della memoria e del patrimonio storico della famiglia, affida a Adnan non solo i ricordi, ma anche il compito di preservare l'integrità e di raccontarli con la dovuta reverenza. La sua narrativa diventa un ponte tra, passato e presente, un'eredità che Adnan accoglie con il rispetto e la serietà che meritano. Attraverso la realizzazione di questo film, Adnan non soltanto celebra la figura di sua madre e le radici della sua famiglia, ma si impegna in un viaggio di riscoperta personale e collettiva, dove i confini, tra storia personale e storia collettiva, si fondono. Il film si preannuncia come un'ultima dichiarazione d'amore, un omaggio alle generazioni passate e una testimonianza per quelle future. Un'opera che riafferma con forza l'importanza delle radici e della storia personale nel plasmare la nostra identità. Amine, protagonista di questa epica familiare, si spegne a 109 anni, nel 2011, circondata dall'affetto dei suoi cari. Il culmine della serie, che trova riscontro anche nella presentazione del film di Adnan al Festival di Berlino, riscuote un enorme successo, condividendo la morale che ha guidato l'intero percorso narrativo. Adnan si ritrova immerso nell'ascolto avvincente e storico di Abdi Pascha, figura emblematica che ha esercitato un'influenza significativa nella storia della sua famiglia. L'epilogo della serie, ricco di rivelazioni e momenti catartici, vede Adnan e la sua bisnonna Amine come figure centrali che tessono insieme le ultime pagine di una storia densa di eventi e sentimenti. Prima di continuare, se il video ti sta piacendo, attiva la campanellina delle notifiche, così riceverai continui aggiornamenti su questa fantastica sop. Ripartiamo. Adnan, figlio resiliente di Zuleya e Yilmaz, si è modellato attraverso avversità ed esperienze che lo hanno segnato fin dalla tenera età. La sua vita è stata un mosaico di episodi tumultuosi, intrisi di emozioni forti, dai rapimenti che hanno turbato la sua infanzia alle vendette familiari che hanno segnato la sua linea dinastica, fino alle perdite dolorose che hanno impresso cicatrici profonde sul suo cuore. In questo contesto, il film non solo celebra la ricca storia familiare, ma offre anche uno sguardo profondo nell'animo di Adnan, un individuo plasmato dalle sfide e forgiato dalle esperienze. La narrazione si snoda come un affresco emozionale, un tributo alle radici che ci definiscono e alle storie che ci formano. Ogni prova ha contribuito a forgiare il suo carattere, rendendolo un uomo di spessore e complessità. Nonostante gli scossoni e le turbolenze che hanno caratterizzato il suo percorso, Adnan ha potuto sempre contare su un affetto incondizionato. L'amore costante e rassicurante di suo padre Yilmaz è quello di Demir, che nonostante i conflitti e le tensioni, ha saputo dimostrare un legame indissolubile con il desiderio di dare voce a queste vicende. Adnan decide di impiegare il suo talento e la sua passione per il cinema nella realizzazione di un film unico, che si prefigge di essere lo specchio di una realtà complessa e il veicolo di una verità che merita di essere raccontata. Il film è un omaggio alla figura di sua madre, Zuleya, che ha incarnato con dignità e forza i ruoli di madre, moglie e donna in una società in cui tali ruoli erano spesso messi alla prova. Il progetto cinematografico di Adnan si configura quindi come un viaggio retrospettivo. Attraverso la pellicola vuole trascrivere la resilienza, la passione, il dolore e l'amore che hanno permeato la vita di sua madre e, per estensione, la sua stessa esistenza. L'obiettivo è rendere omaggio alle lotte, celebrare i trionfi e, soprattutto, immortalare la forza dello spirito umano di fronte alle avversità. Il processo di creazione del film diviene un atto di memoria ed edizione. Adnan si impegna a raccogliere materiali, aneddoti, fotografie e lettere, consulta archivi, registra interviste e si immerge in un profondo lavoro di documentazione per assicurarsi che ogni dettaglio narrato sia fedele alla realtà e rispettoso della veridicità dei fatti e dei sentimenti. Nel narrare la storia di sua madre, Adnan si confronta profondamente con la sua eredità, consapevole che il film che sta per realizzare rappresenta anche una testimonianza della sua identità. Questo mosaico di ricordi ed esperienze ha plasmato non solo la sua vita, ma anche quella dei suoi antenati. È un tributo alla sua famiglia, ma al contempo un dialogo con le generazioni future, un lascito che trascende l'individuale per toccare l'universale. La bisnonna Amin non solo assiste Adnan, ma condivide anche la storia di Abdipasha, un militare ottomano dell'1800, che, a causa della sua demenza senile, lei ha sempre scambiato per il suo fidanzato. La dolce nonnina di Kukurova aiuta Adnan a scoprire eventi familiari di cui non era completamente a conoscenza. Grazie ai preziosi racconti della bisnonna, Adnan può ricostruire con precisione ogni episodio della storia della famiglia Yaman. In una svolta decisiva per la sua crescita personale e professionale, Adnan decide di lasciare la sua terra natia per trasferirsi in Inghilterra, rinomata per le sue prestigiose accademie di cinema, dove potrà perfezionare il suo mestiere sotto la guida dei migliori maestri del settore. L'Inghilterra si rivela un terreno fertile per la crescita artistica di Adnan, un ambiente ricco di stimoli culturali e opportunità che gli consentono di esplorare le diverse sfaccettature del linguaggio cinematografico, affinando la sua visione e la sua sensibilità narrativa. Durante il suo percorso accademico e le esperienze che ne seguono, Adnan si immerge in un progetto che lo coinvolge a fondo, un'impresa cinematografica che considera il suo capolavoro, un film intitolato Zuleia, la grande signora di Cucurova. Quest'opera non è soltanto un film, ma un monumento alla figura materna, un tributo alla donna che ha plasmato la sua esistenza e quella di tanti altri. Zuleia, la matriarca, la colonna portante di una famiglia e di una comunità intera, diventa l'epicentro di una narrazione che intreccia dramma personale e storia collettiva, amore e sacrificio, resilienza e redenzione. Il processo creativo di Adnan si distingue per la sua meticolosità e immersione totale. Dedica innumerevoli ore a raccogliere testimonianze e a scavare nei dettagli più minuti, alla ricerca della verità che ha plasmato la vita di sua madre. La sua dedizione è così profonda che ogni fotogramma del film riflette l'autenticità e la profondità emotiva delle storie che vuole narrare. Adnan si circonda di una troupe di professionisti, selezionando attori in grado di incarnare i personaggi con la stessa intensità con cui sono stati vissuti. La produzione diventa una sinfonia di talenti, tutti sintonizzati sull'ambiziosa missione di rendere giustizia alla storia di Zuleia. Quando finalmente Zuleia, la grande signora di Kukurova, viene presentato in anteprima al Festival di Berlino, l'emozione è palpabile. Il Festival rappresenta una vetrina di prestigio internazionale, un luogo dove i film sono apprezzati non solo per il loro valore estetico, ma anche per la loro capacità di toccare temi universali e di connettere pubblici di diverse culture. La presentazione del film segna un momento di apice, dove la potente narrazione di Adnan si fonde con l'attenzione globale del Festival, creando un impatto che va oltre i confini geografici e culturali. Il film di Adnan si distingue per la potente carica emotiva, una narrativa avvincente e una raffinata qualità cinematografica. Non è solo la storia di sua madre, ma rappresenta anche la trama condivisa da ogni individuo che si trova ad affrontare le avversità, mantenendo viva la speranza e l'amore. La pellicola si snoda attraverso ghigli eventi che hanno segnato la vita di Zuleia, ma si estende anche alle vicende di coloro che hanno intrecciato il proprio destino con il suo. È un racconto che trascende la singola esistenza, toccando le corde dell'esperienza umana in modo collettivo. Il pubblico al Festival di Berlino non assiste solamente alla proiezione di un film, ma partecipa a una manifestazione di eredità che va oltre il tempo e lo spazio, risuonando con la potenza di una verità condivisa e profondamente personale. Con la sua opera, Adnan non solo celebra la vita di sua madre, ma eleva la sua storia a simbolo di perseveranza e umanità. L'indomita morale del film sintetizza l'essenza della trama, a tratti dura ma estremamente coinvolgente. È una storia in cui l'amore permane eterno, i combattimenti spesso sono mortali, ma la speranza trionfa su tutto. Bene, questo è il gran finale di Terra Amara. Cosa ne pensi? Scrivi nei commenti, se vorresti altri video scrivi sì nei commenti. Grazie di cuore e ciao! Grazie a tutti!